fai progredire al tuo livello surfistico iscriviti al programma gratuito start now che ho creato apposta per te ci sono tre video una tecnica speciale e una video call lezione personale diretta con me potrai imparare alcune delle tecniche fondamentali per fare grandi progressi in poco tempo tutto completamente gratuito per te ti aspetto grazie